Buongiorno a tutti, sono Rossella Rossi, docente dell'IS di Ceccano, precisamente dell'alberghiero. L'IS è composto da tre scuole, ITE-CEPRANO, ITE-CECCANO ed alberghiero-CECCANO. Per quanto riguarda l'ITE, innovativa dal punto di vista dell'informatica, quindi certifica patente europea, aperta per quanto riguarda il prossimo anno anche ad esterni. Per quanto riguarda la didattica, siamo innovativi nel settore della progettazione per competenze. Si sta mettendo proprio a punto quello che è il percorso per competenze. Per quanto riguarda l'alberghiero, oltre ai diversi tipi di cucina innovativa che sono sul campo, si punta in maniera particolare a quella che è l'alternanza scuola-lavoro, per permettere ai ragazzi di essere sempre più efficienti, efficaci e formati sul proprio settore lavorativo.